Una delle cose che vedo che fanno la differenza quando si lavora in squadra, quando si lavora in un'azienda, è il coinvolgimento. Una delle cose è proprio il coinvolgimento perché? Perché il tono alto, i sentirsi protettivi dicendo, è una cosa fondamentale. Se stai lavorando in un'azienda, se stai cercando un lavoro, una delle cose che ti invito a notare è proprio com'è l'ambiente di lavoro. Cosa succede se sei un po' giù un giorno? Devi arrangiarti da solo? C'è la gente che ti cazza, che ti dice dai dai sveglia sveglia vai vai? O c'è qualcuno che si preoccupa di capire il perché sei storto e ti dà una mano a rimetterti dritto senza fare poverino poverino in maniera molto ipocrite e poi ti lascia a morire da solo? Cosa succede se hai difficoltà? C'è qualcuno che si incarica di capire che tipo di difficoltà hai e poi magari mettere giù assieme a te dei correttivi un aiuto, un supporto. Se è lavorativa per esempio un affiancamento, un ripasso della formazione o semplicemente siamo demotivati. Capiamo il perché abbiamo iniziato a lavorare assieme. Capiamo cos'è che stai cercando del lavoro perché forse quello abbiamo perso un po' la via. Stiamo mettendo il focus su qualcosa che non sono i nostri valori. Hai un problema? Cosa accade? Su un cazzo di tuoi l'hai combinato tu? Datti una mossa e cerca di sistemarlo? O vieni qua che è una grossa opportunità per imparare, per formarci e magari trovare una soluzione che vada bene a tutta l'azienda? L'ambiente, il coinvolgimento è una cosa fantastica. C'è un problema. Non è una procedura. Non viene iniettato nel DNA. È un qualcosa che fa parte e permea la cultura aziendale. Lo respiri quando entri in un team. Lo respiri anche se non stai cercando lavoro quando entri in un'azienda. Il gioco di squadra è una mentalità prima di tutto dei responsabili, del titolare, del direttore, chi c'è in questa azienda. Il gioco di squadra, il coinvolgimento e volere bene alle persone ce l'hai e lo trovi dall'ultimo entrato al primo entrato. Quella è una cosa che ti consiglio di controllare bene. Perché se tu entri in un ambiente, per quanto tu sia un campione, per quanto siano preparati a livello procedurale e ti raccontano la storia della rava e della fava, se non c'è un ambiente che ti aiuta quando sei giù, che è coinvolto, che crede in una missione unica, che crede nell'etica lavorativa, nel servizio che si dà ai clienti, prima o dopo tutto si sgretola. Credimi, in 30 anni l'ho visto purtroppo verificarsi più e più volte. Non solo nella mia azienda, ma l'ho visto anche da altre parti. E ho capito che giocare di squadra in maniera etica e politica è l'unica, l'unico modo per poter aver tutti successo. Far parte sì di un'azienda strutturata e organizzata, ma dove ci sia vero coinvolgimento. Se ti fa piacere avere qualche informazione su un ambiente di lavoro di questo tipo o chiarenza su quello di cui sto parlando, e magari stai cercando un'opportunità diversa, di crescita, di lavoro, mandami un messaggio. Sai, mi fa piacere condividere i punti di vista anche con altre persone. Al tuo successo e alla tua carriera!